Ci siamo trasferite, cioè ci dovremo trasferire e adesso siamo in questa casa un po' poveretta però Non è così tanto bella però non avevamo troppi soldi Dopodomani ci trasferiremo, che bello, non vedo l'ora, infatti questa casa non mi piace molto Però adesso dobbiamo andare a letto, ok Io direi di dormire qui Oh, ma non voglio disegnare, allora Che cosa stai facendo? Eh no, perché io stavo disegnando Anzi, io dormo di qua, guarda Aspetta, dormo io qui allora Il giorno dopo? Ok Beh, proprio domani ci trasferiremo Eh già, non vedo l'ora, ok Eccoci, non vedo l'ora, vero? Eh già, proprio Però adesso dobbiamo fare la colazione, ok Oh, guarda, sta diventando mattino Ok, beh, direi di fare colazione e mangiamo Mangiamo Allora, io prendo questo, è buonissimo Il giorno dopo, ancora? Buongiorno Buongiorno Oggi ci trasferiamo Non vedo l'ora, non vedo l'ora Ok Beh, fai tutte le valigie e andiamo subitissimo Oh, vero? Che ne dici? Allora, sì Chiudiamo il frigo magari Intanto Oh, vero, mi ero dimenticata Eh, brava, è da due giorni fa Ok Allora, prendi tutta la roba Sì Oh, sono emozionatissima Eh? Fatto Sorella Aspetta, aspetta Ok Sto impacchettando tutta la mia roba Ok Eccomi qui Sono con le valigie Adesso possiamo andare a trasferirci Ok Vieni, sorellina Allora, prendiamo una casa Allora, avevo già l'indirizzo Aspetta, è scritto su un foglio Ah, vediamo sto foglio Eccolo qui il fogliettino Allora, aspetta, fammelo leggere Via Ok, ci sono, ci sono Seguimi, seguimi Si trova qui Ok Ti seguo su pure Dopo che sono andate all'aeroporto Ovvero, dopo aver atterrato l'aereo No, vabbè, bellissima questa Eccola la mia valigia Guarda qui Wow, ce l'ha data in affitto Cioè, ce l'ha regalata, diciamo Abbiamo dovuto pagare, però vabbè Ad un tizio Ma è bellissima questa casa Wow, ci sono due letti a castelli Wow, io dormo qui Io dormo qui sopra Allora, io dormo qui Allora Ok, c'è un altro letto a castello Questo magari sarà per i nostri Vicini oppure amici Io lo so Ok Ok, perfetto Ho fatto le valigie Sorella, io vado ad esplorare un po' No Va bene, dai Io rimango qui a pulire un secondo Allora, vediamo Ok, bene Puliamo Proprio così Ok, adesso Ressicuro qui ci sarà un passaggio segreto Perché Mi sembra un po' sospetto Non ne ho mai visto uno Allora Prendiamo questo libretto Ok, prendo questo libro Ah, mi ho trascinato dentro Ma c'è un regalo Prendiamolo e facciamolo vedere a mia sorella Ok, andiamo subito Sorella Ok Sorella, sorella Ti devo dire una cosa Mi fai prendere un colpo Stavo pulendo Avvertimi Eh, lo so, lo so Ti volevo dire che Di sotto ho visto un regalo Di sotto dove? E mi ha trascinato dentro Un libro Vediamo Guarda Nella biblioteca Dov'è la biblioteca? C'è una biblioteca Io ti seguo C'è una biblioteca? Allora, vediamo Qui dentro mi ha trascinato Oh mamma C'è un regalo Prendi questo regalo Ok, ho preso questo regalo Fa vedere Non ti riesco Oddio Andiamo di sopra Andiamo di sopra Ok, andiamo subito Allora Vediamo Sono il pieno di sopra Di sopra Sì, sì Allora Spacchetto, spacchetto Ok, apro, apro, apro Apri, apri Oddio C'è una lettera E' questa cosa strano Ma cos'è? Allora, aspetta C'è una lettera Te la leggo Ok, leggi Care ragazze Sara E Caterina Oh cavolo Come fa a sapere i nostri nomi? Appunto Va bene Ehm Continuiamo a leggere Vi ho dato questa casa Con dentro Questo scandalizzatore Che vi troverà Una cosa Se E voi Adesso Dovrete venire da me Io Vi aspetto al cinema Ciao Firma Punti interrogativi Cosa? Cosa? Ma come facciamo ad usare questo? L'ho appena preso Mi sa che dobbiamo andare Da questo signore al cinema Ok Io lo tengo sempre in mano Te lo dico No, meglio di no Mi fa un po' impressione Sai Ok, aspetta che me lo metti in poste Ok, andiamo al cinema Ok Vengo subito Dal cinema Beh, direi proprio ad andare Ok Allora È qui Allora Ok Ok, ci sono due sale Ho paura Ho chiuso l'altra aperta Andiamo in quella aperta, no? C'è un signore là Lo vedi? Oddio Scala Ho paura Nell'ultima fila Ok Andiamo dal cinema Ehi, mi scusi Signore Ciao Eh, siamo noi E lei che ci ha dato la casa? Sì Sono proprio io Venite cari, venite Stiamo vedendo Ok Ciao Che paura, sorella Ciao ragazzi Una è Sara L'altra è Caterina Beh Ciao ragazzi Io sono Luciano Sono un anziano, sì Però senza barba Non so cosa mi è successo Però vabbè Dettagli In pratica Mi sono rasato la barba Vabbè Allora in pratica Vi ho dato questo scandalizzatore Perché ho nascosto un tesoro In questa Brookhaven Beh Io adesso devo scappare da questa città Devo correre subito Addio Addio ragazzi Questo c'è? Sì L'ho visto Beh C'è 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 E adesso ragazzi Mi dovete scrivere Nei commenti Ovviamente Se volete La parte 2 Arriviamo a 10 like E ci sarà la parte 2 E spero che questo video Vi sia piaciuto E ciao Ciao